Piemonte, uno dei vitigni spesso dimenticati è il grignolino. Stefano ne fa due versioni. Noi facciamo due versioni di grignolino, una è una versione base, un grignolino normale, solo acciaio, e l'altro, il vino rosso Cravette, è un grignolino che ha fatto 18 mesi di tonno. Sì, quello è un po' un altro piccolo esperimento che ho provato a fare. La lavorazione di questo vino è un po' particolare rispetto a molti altri. Noi lo vendemmiamo una settimana circa dopo il Barbera. Ah, quindi ha una maturazione tardiva? Sì, il grignolino è un'uva che più lasci lì, più matura, meglio è, e viene vendemmiato già tardi. Noi lo lasciamo solo quattro giorni sulle bucce, non di più, per evitare che prenda quella tannicità tipica che rilascia appunto il vinacciolo. L'acino del grignolino contiene molti vinaccioli e conferisce una tannicità eccessiva. Allora lo lasciamo solo tre, quattro giorni in macerazione, dopodiché lo travasiamo e gli facciamo finire la fermentazione a parte. Quindi sarà un vino di una tannicità moderata e un po' scarico di colore? Sì, beh, tipicamente il grignolino è un'uva che è scarica già suo di colore, l'aranciato che vedete del grignolino è una sua tipicità. Il colore del grignolino in gergo si dice sangue di rana, adesso io non ho mai visto il sangue della rana, però si dice così. È un vino molto particolare, è un vino che o lo si ama o non lo si ama. E oltretutto noi abbiamo deciso di provare a fare, in questo caso quello lì era un grignolino del 2016, abbiamo deciso di metterne una parte in legno, 18 mesi in tonno, e devo dire che il legno lo ha ammorbidito tantissimo. L'unico difetto che ha è che comunque con l'invecchiamento appunto tende un po' di più a questo aranciato, però è una sua caratteristica tipica. Beh, io direi che quasi quasi provo a vedere il semino a molo. Proviamo. Lo apriamo? Pronti? Beh Stefano, il colore è stupendo, è comunque brillante, è scarico ma è brillante. E il profumo è fresco, si sente questa gioventù del vino che a me onestamente attrae. Sento già Cupido che mi lancia la freccia. Questo o piace o non piace, via. Questo colore è molto particolare, è una caratteristica, se guardiamo contro luce un pochettino i riflessi aranciati si vedono, però è proprio tipico così. Poi è anche dovuto al fatto che noi facciamo pochissimi rimontaggi sul grignolino per evitare appunto di accentuare questa tannicità. Il colore in trasparenza è accattivante. Alla vista si può pensare di bere un vino leggerissimo, fresco d'aperitivo che di fatto può esserlo, ma ha una struttura, un corpo che si rivela dopo. È un po' canaglia, diciamo, questo vino, no? Sì, è il vino che può fregarti quando ti devi alzare dalla sedia, magari dopo il pranzo, sì, in effetti. Quello che mi stupisce di questo vino è la facilità di beva. Questo può essere un pregio, forse qualche difetto per chi poi deve guidare, perché qui lo bevi tanto facilmente, ma in realtà fa 13 gradi e mezzo. Questo qua l'alcolicità si sente abbastanza poco, anche perché lo si sente abbastanza a sprigno in bocca, questa città. Pulisce bene la bocca, infatti è consigliato con dei piatti abbastanza grassi, tipo i fagioli grassi, i fagioli con le cottiche, pasta e fagioli. Ma sai che a me viene in mente un piatto veneto è il bisato, cioè l'anguilla, l'anguilla ai ferri, è grassa, è grassissima e con questo io... Ci sta la bella grande. Pesce in umido sicuramente, un bel merluzzo in umido, per esempio, è la morte sua anche. Assolutamente, quindi è polivalente, diciamo che lo vedo come un vino da tenere sempre pronto in frigorifero. È una cosa giustissima. Ho conosciuto sua mamma e so che lo abbina anche con dei primi piatti. Sì. Classico tagliolino a ragù. Tagliolino a ragù, assolutamente, ci sta anche l'agnolotto la piemontese, l'agnolotto del Plin, ci sta benissimo il grignolino con questo. Cosa dovrei aspettarmi da quell'esperimento che ha fatto 18 mesi in legno? È una cosa molto particolare perché qualcuno un po' storceva il naso perché dice il grignolino è già tanto tannico di suo, quindi col legno potrebbe accentuarsi questa tannicità. Invece no, il legno ha arrotondato un po' gli spigoli del grignolino e gli ha dato questa morbidezza in più, questo sentore un po' di vanigliato che va a smorzare appunto il tannino del grignolino. Quello che stiamo vendendo adesso è un grignolino del 2016, quello che abbiamo messo in legno, è stata una grande annata il 2016 e quindi è veramente tanta roba. Beh ragazzi, allora quando pensate al Piemonte non dimenticatevi del grignolino, non dimenticatevi di Stefano, di Bosco Galli e su boscogalli.it provatelo. Assolutamente. Chin! Don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Chin! 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 Grazie a tutti